Sono una fragola Aspetta Mi truccherà Devo fare il make up artist Si E ho un po' paura Devo fare Clio Fa Clio Prollo make up Comunque guardate come è struccata Ma non Ma poi finite fatte affari tua Ma raga ho taglio fuori dal canale Bravo Grazie Aspita Ok Allora io farò un trucco Incentrato sugli anni 70 Ovviamente userò Dei trucchi Dei trucchi Via iniziamo Ok da dove vuoi Da che parte vuoi iniziare Cos'è questa? Eh è la terra Ah la terra Ok Vediamo benissimo Questo è per il fondotinta Si E questo è per il correttore del fondotinta Mascara? Ok Ombretto Questo è un rossetto Sono bravo Sì Fondotinta Forse non andrà così greve Questa è la bravo Molto? È la tinta Ah Puoi scegliere tra il rossetto della tinta No lo sai Anzi tutti e due Vuoi metterlo anche l'ombretto? Certo Forse non hai capito che cosa ho intenzione di fare Sarà un trucco un po' improvvisato Però Alcanzialmente non sa che cosa in mente Allora siccome Dobbiamo fare un trucco molto strong Ok Quindi però O ci si concentra su gli occhi O ci si concentra sulle labbra Io ovviamente mi concentro su tutti e due Ok Se sta mazza sta iniziando benissimo O sugli occhi e sulle labbra O su tutte e due Allora Usiamo questo pennello Della Elizabeth Arden E mettiamo Questo La fa vedere a Ah scusate Farmi che In un'amica Pagli Scusate Invece c'è bene Ottimo Qua anche Oh C'è Vede Eh l'ho messo bene Sarà sicuro meglio Di altro Pugendate C'è Siccome sei una ragazza Un po' particolare Ho voluto farti Un ombretto diverso dall'altro Quindi Due ombretto diversi Ok Si! Allora ovviamente.. Certo, poi si soffia! Ora vorrei... Mettere la mia... Ha caricato Pasquale Mette... Una matita Aspetta, si mette giù ora Oddio Oddio non mi accicla Devo farti così? Si non mi ritengo ti ha fatto troppo in gioco vabbè dai ci sta usiamo le linee le linee questo farò meglio guarda al centro io parto da fuori e poi parti da dove pare bastare tra quali aspetta ma guarda guarda che sto facendo bene gesti suavi ma rica oggi ho pure dentro da Befana quindi devo fare un tutorial ma rica ma che me l'ha fatto fa un altro occhio fa bene ma che stai no vabbè gra basta con la linee non te levi è carina sono a favore rica avvicinati allora se volete questo trucco farò un video a parte dove spiegherò il tutorial o siamo diventando una mica partis a me 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 e poi ultimo ma non per importanza rossa mi servirebbe anche il pennellino per il rossetto per metterlo meglio però visto che non ce l'ho questa cosa è ma se me il sûretenta fambo la storia del trucco siccome è il 2000 siccome è il 2000 veniva usato un labbro diverso dall'altro ah ah pure questo è interessante mi mancava non è uffa volevo un rossetto rosso no vabbè sbiamato nel naso non c'è niente no il correttore dammi pietà no 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 il mio trucco è finito quasi quasi da innamorare a me piace così meglio così che al naturale sono tornata normale dopo due ore per sul canale se vi è piaciuto il video lasciate un like iscrivetevi condividete e se no se non l'avete ancora fatto iscrivetevi no in qua sotto ci sono i miei link i nostri social mi è finalmente tornato sul canale eh sì eh sì allora no non abbiamo fatto molti video perché praticamente ci siamo goduti fino alla fine le vacanze perché sono rimasto 12 giorni e poi siamo stati male siamo stati anche male lei ha avuto la febbre io per fortuna sono rimasto incolume sì cioè a casa nostra sono tutti male tranne lui fortunatamente e niente però noi siamo divertiti quindi vedrete più video perché tornerà a febbraio per il suo compleanno perché compierà 18 anni e quindi vedrete altri video e quindi vedremo vedrete altri video quindi ci vediamo nel prossimo video vi vogliamo bene belli vi vogliamo bene